ladies and gentlemen signore e signora guagno mren questo è uno dei momenti più belli della mia vita perché finalmente direttamente da cerignola puglia riesco ad andare a questa velocità 6 ms di ping che vuol dire velocissimo tac si attacca la rete velocissimo 400 megabits download possiamo comparare questa velocità alla velocità della macchina ok prima andavo a 200 all'ora ma va da 400 all'ora questo è l'upload quello del download scaricavo a 400 all'ora ok download upload mando sulla nube questo video che dei video che faccio appena fatto un video di 30 minuti su uno dei nostri software calenbook su tutta la nostra roadmap che vuol dire tutte le cose che faremo in futuro per spiegare tutti i dettagli tutto in inglese dovrei farne anche un italiano ma bo sta voce ed è incredibile mi sento finalmente connesso al mondo perché ovviamente prima con la con la dsl riuscivo solo a mandare a 20 all'ora ora vado a 300 rimando in aria nella cloud nella nube se l'internet su youtube dove vuoi rimando su in aria 300 all'ora e potete ben capire che finalmente c'è in un video di mezz'ora 3 gigabytes bello pesante è arrivato su su youtube in quattro minuti ok ora ci metterà 70 minuti a processare la versione hd però questo perché sono veramente contento che team e telecom e voglio fare un ringraziamento speciale a carlo che che è stato veramente di super supporto per far arrivare la fibra qui e niente prendetevi la fibra team perché è veramente che si viaggia e io non ho avuto team per un po perché non ho avuto belle esperienze in passato quindi inutile che non non sto non mi stanno pagando ancora però vorrei farmi pagare la team per favore pagatemi ho avuto vodafone mi è piaciuto poi ho passato a iliad poi sono soltanto a wind e ora sono su team ho lasciato a wind e c'ho la scheda team unlimited 5g a 9 99 al mese e l'internet la fibra a casa un gigabit di per scaricare 500 per me per manda su e sono felicissimo sono sono felicissimo grazie mille finalmente mi sento connesso ci vorrebbe una canzone mi sento connessivo perché sono vivo perché sono vivo perché se sto connesso sto vivo mamma mia io prima non faccio tutti sti video oggi ne ho fatti due anche perché solo il fatto che devo stare a fare l'upload stare il computer bloccato qui mamma mia che scocciatura va bene prendetevi la fibra di team è veramente spettaculare per vedere la veloce del vostro internet andate pure tu speed test punto net ecco questo sito vedete a che velocità andate come con la maglina ok ecco ripeto vedere quanto è bello veloce fra 363 il massimo da 100 c'era mai ovviamente si va su altri su altre massimali di guida è così e quindi tutto tutto molto bello ovviamente questo spitte stando male perché lo stiamo già testando qui e quindi sto sporcando il risultato però volevo niente volevo esagerare volevo esagerare come sempre il fastest che ho fatto è 5 99 forse ora sto vedendo devo attaccare l'internet ovviamente se attaccate l'internet questo è col wifi col wifi a casa se attaccate l'internet è pure più veloce infatti ora lo devo attaccare ciao 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 mettici grazie mille team la febbra anche al sud in italia e quest'anno tra l'altro quest'anno veramente che cioè anche in classifica serie a questo è l'anno del sud del centro sud ma che cos'è classifica serie a perché cioè sono contento di dire per la prima volta napoli lazio che vabbè anche se li odio e roma in pole position ragazzi cioè figata centro sud sta spopolando quest'anno siamo carichi ciao a tutti